I vigili del fuoco precari dell'isola si sono ritrovati questa mattina alla Rada San Francesco per unirsi a Villa San Giovanni e i colleghi calabresi. Obiettivo come segnalato dal sindacato USB è l'aumento della riserva nelle assunzioni al ruolo operativo al 60% e una riserva del 10% per i discontinui nei futuri concorsi del personale amministrativo. Altre richieste percorso privilegiato di assunzioni dei discontinui nei ruoli tecnici, ausiliari e di supporto avviamento al lavoro tramite formazione per coloro già in possesso di diplomi o lauree tecniche attraverso specifici corsi che diverranno dei veri e propri certificatori sulla prevenzione incendi e infine il rilascio dell'attestato di lavoratore ad alto rischio. Chiare la posizione di USB che chiede un processo chiaro di assorbimento e un abbattimento del precariato a favore del raggiungimento degli standard europei di un vigile del fuoco ogni mille abitanti.